Benvenuti al Parco Oceanografico. Unitevi a noi, mentre esploriamo le meraviglie dell'Oceano Pacifico e le incredibili forme di vita che contiene. C'è qualcuno? Oh, ciao, mi puoi aiutare? Ho perso i miei genitori. Dove siete? Aiuto, qualcuno mi aiuti! C'è qualcuno? C'è qualcuno? Ehi, tu. Ciao, sono Dory. Mi chiamo Hank. Devo trovare i miei genitori. Non ho mica la mappa di questo posto. Una mappa? Ottima idea. Tu mi porti alla mappa e io trovo i miei genitori. Oh, che brava. Scusate, la nostra amica è là dentro, smarrita, sola, spaventata. Noi conosciamo un modo, non preoccuparti. Gerald, scendi dallo scoglio, forza, lo sai che non devi, forza, vai via! Non preoccuparti di nulla. Ti aiuterò a trovare i tuoi genitori. Davvero? Ti aiuteremo tutti. Bailey, usa l'ecolocalizzatore. Mi sento stupido. Bailey. Scusa. Ok, andiamo. Ma tu ti ricordi che aspetto hanno? Qualcosa mi dice che sono prevalentemente blu con forse del giallo. È probabile. Dove siamo? La taglia delle dittate. Dittate? Attenti! Scusa. Tranquillo, capita a tutti. Niente di cui vergognarsi. Perché da quando ti conosco, tu mi hai insegnato a fare cose che non mi sarei mai sognato di fare. Funziona! Cose folli. Adesso, adesso, fallo, fallo! Non buono. Mamma! Papà! Lory, questi paguri sono di qui e se ci dicono di fare silenzio ci sarà un motivo. Ed ecco il motivo. Quello non è la mia mamma! Non vedo un accidente! Dove andiamo? Vai a destra? Sinistra? No, no, no! Destra! Destra! Vai! With the bank! Grazie per la visione!